La relazione familiare è difficile, aspetti psicologici del conflitto e della separazione. Questo è il titolo del convegno che si è tenuto a Scafati alla Biblioteca Morlicchio. Un incontro inserito nell'ambito dell'iniziativa della settimana per il benessere psicologico in Campania e che ha visto impegnati in prima linea l'ordine degli psicologi regionali per promuovere e diffondere la cultura del benessere sul territorio dell'agro. A moderare l'evento il pediatra Carlo Montinaro. Abbiamo avuto innanzitutto un pubblico prevalentemente femminile e poi in realtà tutto questo ci dice che le problematiche per quanto riguardano soprattutto il benessere psicologico è un problema che effettivamente coinvolge la famiglia. Questa sera è emerso questo, cioè che in effetti questo sportello che si è aperto a Scafati soprattutto ad opera di questa associazione Futuro Famiglia è uno sportello di grandissima importanza anzi forse direi che è unico nell'agronocerino sarnese. E noi oggi volevo dire che abbiamo bisogno di ascolto, cioè la famiglia ha bisogno di essere ascoltata, ha bisogno che ci sia qualcuno che faccia da mediazione, perché le problematiche sono molteplici, i dissidi familiari sono anche questi quadruplicati, quindi in effetti bisogna trovare un punto d'incontro. Quindi questo sportello dovrebbe fare prevenzione ma anche terapia. E soprattutto non bisogna dimenticare che al di sopra di ogni cosa ci deve essere il bambino. Grazie. Grazie. Grazie.